Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La terza puntata di Ballando con le stelle 2024 ha visto l'arrivo del primo zero da parte di Mariotto, seguito da un secondo zero assegnato a Francesco Paolantoni. Il giurato Furkan Palali ha sorpreso tutti alzando la paletta con lo zero, mentre il comico Paolantoni ha ricevuto solo 12 punti nonostante i suoi problemi di salute. Nonostante le polemiche, il vincitore della serata è stata Bianca Guacero, che insieme a Giovanni Pernice ha conquistato la vetta della classifica con la sua esibizione sulle note di Nei Giardini che nessuno sa di Renato Zero. La puntata è stata caratterizzata da momenti di tensione e sorprese, con Mariotto che ha dimostrato di non gradire alcune esibizioni, assegnandolo zero e mettendo in difficoltà i concorrenti. La competizione si fa sempre più serrata e i concorrenti devono dare il massimo per conquistare il favore dei giudici e del pubblico. Nonostante le critiche e le polemiche, Ballando con le stelle continua ad appassionare il pubblico con le sue emozionanti esibizioni e i momenti di grande spettacolo. Resta da vedere cosa riserveranno le prossime puntate e quali saranno i nuovi colpi di scena che terranno.